Oggi sono ascesa dall'inferno per cucinare un bel stanami al cioccolati! Faccio il cioccolato fondenti? Faccio così, vada che meglio, splaff, splaff e splaff! Ma che puoi parlare a te? È una scorrezza! Mi soffia il naso! Ma ci stanno tutti sti figli! Il diavolo non piange! Cos'è? LUCIFER! Qui siamo a scuola di maciere! Che putz di merda no, si è bruciata! Adesso prendo questo annauguovo e lo devo sbattere di dentro! Ho fatto! Ho fatto! Che schifo! O ora sei incassato! Dai Cristina! Quando non si accende, soffia sul tornello! Così viene il fuoco! Ma che merda! I pulcini! Hi sister! Do you want to fly? You can't! You dead! Stop! You know what? It's time to put his fingers in his eyes! Ma scusami lo devi... Ma lo devi mettere dentro la carta! Sciocchina! Puzzoletta! Scronzetta! Ma qua cosa ti sembra? La merda!